Una sola rete, come è già accaduto all'andata, decide il derby della Murgia in favore del Gravina e condanna la sconfitta con rimpianti, il team Altamura. Il gol partita sul sintetico del vicino arriva al tramonto della contesa. Lo realizza l'argentino Chacon, ad una decina di minuti dello scadere vale per la squadra allenata da Suma e Ragone, il primo successo nel 2022, ottenuto al terzo tentativo utile, esordio con sconfitta nel nuovo anno, dopo due rindichi causati dal Covid invece per i biancorossi di Leo Di Benedetto, alla prima battuta d'arresto, il primo gol incassato dalla sua gestione tecnica, bella cornice di pubblico sugli spalti nonostante una temperatura tutt'altro che gradevole e le limitazioni dettate dalle attuali restrizioni. Partita caratterizzata da sostanziale equilibrio in campo, padroni di casa con Cristeschi al fianco di Dioppi in avanti, ospiti con Molinaro e Tedesco, tandem offensivo, team Altamura in evidenza in apertura ma mascole attento proprio su Molinaro, Tuninetti al rientro dopo la squalifica, scheggia la parte alta della traversa poco dopo il quarto d'ora, e Gravina perde a metà frazione Chiara Dia per infortunio dentro al suo posto di Modugno, il primo tempo non è memorabile e si conclude sia senza gol che senza una marea di emozioni. I padroni di casa provano a cambiare passo nel corso della ripresa, impreciso Diopp al rientro dagli spogliatoi si perde sul fondo, pure il successivo tentativo di Chacon sempre per i gialloblu. Team Altamura ritorna in campo dopo più di un mese e mezzo estremamente pericoloso con l'asse Baragi-Barga, il 2003 brasiliano colpisce il palo a mascolo battuto, poi di nuovo Gravina intorno all'ora di gioco, Chacon inventa Diopp decisivo al D'Angelo nel derby d'andata, non riesce a completare l'opera. L'equilibrio nella sfida tutta murgiana permane sino all'ottantesimo e Chacon poi a cambiare la storia della contesa con un destro preciso ed efficace. Gravina in vantaggio, Gravina che conduce in porto la prima vittoria del 2022 con Solida, così la quinta posizione in classifica in piena zona playoff. Domenica si conclude il trittico in una settimana con l'impegno in trasferta contro il Biceglie sul neutro del Degli Ulivi di Andria, farà tappa al D'Angelo contro la Casertana invece la missione riscatto del team Altamura.